Mettiti in una posizione comoda, chiudi gli occhi, rilassati e respira. E man mano che ti lascia andare tutte le tensioni che si sono accumulate nel tuo corpo durante la giornata, inizia a dare il via alla tua immaginazione e focalizzati in questo momento su un pensiero positivo, su una sensazione bella, piacevole, che ricordi facilmente. Ora, mentre sei completamente avvolto dalla gioia e dalla gratitudine per questo bellissimo ricordo, chiedi alla tua guida interiore di comunicare con te attraverso i sogni. Inoltre chiedi di ricordare ogni tuo sogno, per poterne comprendere il significato o il tuo risveglio. In questo modo non potrai dimenticare il sogno, ma potrai riuscire a vivere un sogno anche ad occhi aperti. Poiché hai un corpo meraviglioso, esso è il veicolo della tua anima, il tempo e del tuo spirito. Esso può vivere nei sogni quando hai gli occhi chiusi e qui sulla terra quando hai gli occhi aperti. Non è sempre lo stesso sogno. Durante la notte puoi riposare, il tuo corpo si rigenera, le tue cellule ringiovaniscono, ma la tua anima può viaggiare e fare tante altre belle esperienze. Siamo esseri mortali. Prima saremo padroni dei nostri sogni, da addormentati, e prima saremo padroni della nostra vita da svegli. Ti auguro una vita meravigliosa, nei sogni e da svegli. Grazie a tutti i nostri sogni.